Per mettere alla frusta il più possibile tutte le ruote, bisogna sfruttare il più possibile i cordoni, qui i cordoni sono quasi tutti piatti tranne quelli della chicane, quindi abbiamo chiesto di spostare laddove possibile il birillo perché si riesca a prenderli in pieno, quindi l'obiettivo è cercare di passarci sopra il più possibile. Magari l'ingresso un po' brusco in curva per fare il trasferimento di carico destra, sinistra, sinistra, destra e poi la curva in conduzione col gas in modo da tenere il carico sull'esterno della vettura che non giriamo fortissimo, farlo più che altro in curva. Grazie a tutti! 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 Tutto 2,5! Tu ne hai compito l'angolo! 2,5! 2,5! 2,5! 2,5! Buesta! Borrani oggi rappresenta un perfetto connubio tra quello che è la realtà del passato. Borrani è un marco glorioso che fin dal 1922 e fino ad oggi produce ruote e raggi per le macchine storiche che vendiamo in tutto il mondo a collezionisti e musei. Borrani ha deciso qualche anno fa di investire in ricerca e sviluppo facendo tesoro di tutto il suo know-how sulla ruota classica per reinventare la ruota raggi e riproporre un prodotto avanzato di tecnologia avanzata, una ruota raggi nuova che è adatta alle vetture moderne e alle supercar di oggi. Presentiamo sul mercato due tipi di prodotti, due tipi di ruota raggi, ambedue di avanzata tecnologia. Il primo prodotto si chiama X-Ray ed è destinato alle vetture Air Sport Car di più alto di gamma. Ferrari, Maserati, Aston Martin e stiamo sviluppando altre misure adatte a tutte le altre marche. Presenteremo poi sul mercato il prodotto denominato S-Ray, destinato a vetture di più piccole dimensioni. Inizieremo con Fiat 500, proseguiremo con Mini e poi svilupperemo altre misure, salendo dal 16 fino al 17 di misura per poterle proporre anche su altre vetture. 2.5 di là, 2.5 di anteriore. Siamo alla... ...e un interiore per poterlaggio a 70 gradi. Aspetta un attimo. 101? 101, anteriore destro. 102, 3.0 di sito, 102, 3.0 di sito di empolette, 102.0 di sito di poi dal 15.0 di sii. 102, al 15.3 di inizio per poterlaggio a 60 gradi. 102, letra, 700.000 di sito di appgare. 102, inizio per poterlaggio a 50 gradi. 100.000 di sito di dipolazione di grigia. 100.000 di sito di spolazione di bambini. 125.000 di sito di polizgica. 60.000 di sito di produzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Intanto incominciate a vedere quella dall'altra parte che deve essere un trapirello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.